E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto io sono Emiliano e anche oggi trovo il nostro consueto Morning With Crypto l'appuntamento che ci accompagna dal lunedì al venerdì con le principali news di mercato con quello che è successo la notte andremo ad approfondire quella che è una lettera allucinante che è stata mandata alla SEC e quindi da Gary Gensler da parte delle banche perché siamo entrati un po' in una modalità dove nessuno vuole rimanere fuori vogliono tutti salire a bordo e tra poco capiremo di cosa si tratta ma è davvero una roba estremamente importante ma come sempre prima di partire mi invito è uno quello di lasciare un bel mi piace qua sotto se vi fa piacere ricevere questi contenuti ogni giorno iscrivetevi se siete nuovi perché chi lo conosce lo sa i miei contenuti sono time sensitive quindi quando serve arriviamo a voi subito on time soprattutto nelle situazioni importanti e se volete supportare il mio lavoro in maniera totalmente gratuita trovate sempre qua sotto tutti i link ai servizi che utilizziamo personalmente che in questo diciamo mercato è importante anche utilizzare servizi di un certo tipo detto questo non perdiamo altro tempo e partiamo partiamo dal primo grafico il primo grafico che è una metrica che spesso tendo a non utilizzare perché sì magari rappresentativa ma fino a un certo punto di quelli che sono i bitcoin presenti sugli exchange è una metrica volatile nel senso che c'è un trend sicuramente molto marcato ma è un è una metrica che potrebbe anche invertire quindi non è che su questa base qua andiamo a fare chissà che analisi ma è interessante un pochettino capire com'è il sentiment soprattutto in quest'ultima fase per quello che riguarda i balance sugli exchange ovvio che più bitcoin ci sono sugli exchange e tendenzialmente più l'offerta si fa sentire cioè più dovremmo andare ad avere pressioni di vendita in questo caso ricordatevi sempre che queste metriche non vanno a diciamo a inclobare quelli che sono gli scambi otc quindi non vanno a prendere all'interno certi address che vengono e scambiano al di fuori degli exchange quindi questo è proprio il balance quanti bitcoin sono depositati sugli exchange per essere scambiati beh il trend comunque sia estremamente marcato vediamo trovato il suo top nel durante diciamo il covid crash e poi dopo è stato sempre un declino anche se in realtà siamo andati in fase abbastanza laterale diciamo così nelle fasi di picco e euforia dello scorso ciclo di mercato in ogni caso stiamo raggiungendo in questa metrica si nota i minimi di aprile 2018 quindi siamo comunque su livelli estremamente contenuti diciamo perché se pensate negli ultimi sei anni non abbiamo mai raggiunto un livello così basso di bitcoin è anche vero che insomma inizia a essere la self custody magari maggiormente utilizzata maggiormente adottata e soprattutto anche questi etf come viene spiegato anche qua appunto incrementano comunque quella che è la domanda e la custody esterna dagli exchange fatemi sapere anche voi cosa ne pensate riguardo ma sicuramente è una metrica interessante e molto molto chiara arrivando invece a noi vediamo se riesco no non riesco vabbè va bene così a zoomarvi questa lettera perché questa è una lettera che è stata mandata il 14 di febbraio ed è emersa nel weekend ma ho detto ve ne parlano in morning with crypto da parte di chi? delle banche cioè qua dentro trovate American Bankers Association Bank Policy Institute Financial Service Forum Fisma insomma tutte entità che vanno a rappresentare fondamentalmente pensate da come un sindacato delle banche se vogliamo quella che è la posizione delle banche americane ebbene questa lettera è indirizzata a Gary Gensler appunto al chair della SEC della Security and Exchange Commission e vanno a partire caro Gary Gensler e vanno innanzitutto a spiegargli un pochettino che cosa che questo bulletin numero 121 denominato sub 121 che va un pochettino a dargli delle limitazioni estremamente rigide su quella che è la detenzione di criptovalute soprattutto di bitcoin va rivisto fondamentalmente infatti vedete proprio che vanno a dare proprio in riferimento a questo sub vanno proprio a spiegare ci sono stati in questo tempo diversi sviluppi negli ultimi due anni e vanno proprio a menzionare l'approvazione da parte della SEC di ETF Spot Bitcoin e poi sicuramente quello che è la possibilità di salvaguardare l'asset class clientela le asset dei clienteli, scusate stamattina va così, gli asset dei clienti attraverso un servizio di custodia digitale che potrebbe essere fatto e potrebbe entrare in vigore attraverso soprattutto gli istituti bancari quindi loro praticamente stanno andando da Gary Gensler bussandogli alla porta dicendo ehi Gary ti sei dimenticato di noi? Guarda che noi volevamo fare delle cose, tu non ce le hai fatte fare adesso hai provato tutti quanti gli ETF Spot e a noi non ci fai fare niente ti chiediamo cortesemente di rientrare anche noi nella partita e questo perché si stanno accorgendo che il treno, abbastanza partito diciamo, soprattutto su bitcoin sta iniziando ad essere un momento importante soprattutto per posizionarsi da qua al prossimo periodo quindi cercano di non perdere terreno, ripeto, non sono entità no profit che gli interessa dei sviluppi di bitcoin gli interessano le commissioni, gli interessano le potenzialità di fee che vanno a generare su ogni loro servizi appunto di questo tipo qua ricordiamoci che appunto è tutto un discorso di business model quindi a noi non interessa pensare che a loro bitcoin pensano che sia il futuro no, non lo so se lo pensano ma sicuramente hanno un'idea di come farci eventualmente un business profittevole con i loro clienti quindi questo però porta chiaramente maggiore confidenza perché se questi poi iniziano anche loro a chiamare i clienti voi capite che è un effetto palla di neve di cui abbiamo già parlato insomma stiamo fantasticando forse però nel senso prendete sempre le mie cose e poi ragionateci voi con la vostra testa come sempre prima di passare ai gamers e ai losers vi ricordo anzi ve lo linko perché l'altro giorno non ve l'ho linkato quindi mia colpa Afterset Exclusive che è un contenitore con le promo attive per la community con le top promo attive della community su Bitget c'è ancora la promo fino a fine mese dei 100 dollari di cashback su 100 dollari depositati in bonus trading chiaramente mentre su Bybit c'è ancora attiva qualche posto per l'aerop di 15 dollari su un deposito di 100 più tutto il resto ovviamente i sconti fee insomma anche coin call vi ricordo l'evento a Trento venerdì questo registratevi con l'Evenbrite e basta poi vabbè tutti gli altri chiaramente che utilizziamo dateci un'occhiata secondo me e se volete soprattutto supportare il mio lavoro gratuito detto questo andiamo a vedere quelli che sono i gainers delle 24 ore tra un Warcoin che ritorna in maniera aggressiva nell'ultima settimana ha fatto un 168% un più 29 settimanale TheGraph un più 23 Blur un più 14 Beam un più 13 Illum un più 11 Edera un più 10 Fetch AI un più 9 eCash un più 9 Render un più 8 ICP un più 8 allora ragazzi una cosa prima di passare ai losers io ve l'ho già detto ma siccome leggo i gruppi le cose non andate adesso a fare gli all-in sui nomi che hanno già fatto chissà quanto ne sa soprattutto sui più 30 giornalieri più 20 giornalieri cioè state attenti perché se per caso ci fosse anche una correzione salutare tutto quello che vogliamo comunque sono nomi che vanno a dare indietro in maniera abbastanza aggressiva quindi mi raccomando sempre occhi aperti occhi aperti non è che adesso da oggi è il nome rivelazione fino a ieri non valeva nulla mi raccomando tra i losers che abbiamo abbiamo nomi che fanno un meno 6 ma con un più 50 settimanale e poi basta ragazzi poi abbiamo le stable praticamente in ballo quindi nulla di particolare da segnalare e questo perché? perché bitcoin guardate la sta facendo dopo un sabato che ormai l'hanno capito tutti che il sabato e la domenica i volumi non ci sono soprattutto gli etf sono chiusi che non va così il mercato tradizionale è chiuso e fanno questi shakerini che poi vedete dove ci riportano ci riportano dove siamo ripartiti ok nulla di più e bitcoin davvero molto molto carico questa pausa è stata molto interessante questi 4 giorni diciamo di lateralità nel quale non si è avuto particolari influssi forti di capitali né di shake perché hanno dato tempo e respiro di far recuperare le medie mobili i nostri supporti la prima è la 12 EMA in zona 50.000 dollari e insieme a tutta questa area di liquidità che abbiamo bucato e abbiamo tempo anche per la 26 per recuperare quindi molto bene molto bene lo direi anche su Ethereum che guardate cosa è andato a fare invece lui nel weekend è andato a confermare una bull flag bull flag confermata abbiamo avuto questo piccolo storno ma è abbastanza questa abbastanza facile ragazzi da leggere perché guardate le shadow inferiori molto molto aggressive quindi si sono andati a costruire questo è un hammer certo questa è un pochettino simile a un hammer ha un po' più una doji un po' di indecisione ma poi indecisione hammer e siamo partiti quindi Ethereum che ormai la faccia ce l'ha puntata verso i 3.000 dollari questo insomma è quello che ci dicono le chart vedete un po' di zoom out sul settimanale come vi dicevo non c'è tantissimo ragazzi fino alla zona i 3.500 più 3.000 psicologici quindi se il mercato deve accelerare e la domina a scorreggere è un nome che sicuramente è interessante già ve ne ho parlato ma non ve ne ho parlato dai 2.900 ok ne ho parlato sotto i 2.000 ampiamente sotto i 2.000 e sono nomi ripeto rischi e rendimento interessanti cioè nel senso se vi dessi la coin del futuro 100 per vi facciamo perdere soldi cioè perché se non va come va avete perso tutto facciamo i biglietti di lotteria cosa che è meno utile ok è meno utile già i rischi in questo settore sono molto elevati diciamo la mettiamola così se andiamo a fare i biglietti di lotteria capite bene che serve a poco serve a leggervi le carte e a noi non ci interessa bene dopo questa divagazione poco utile la domina cosa sta andando a fare sta andando a correggere sta andando a correggere in realtà ancora molto spazio di correzione poi potrebbe trovare già un supporto sui 52.79 ma sicuramente potremmo vedere i nomi iniziare ad accelerare in maniera ancora più veloce ancora più aggressiva soprattutto se bitcoin dovesse sostare perché voi capite che se bitcoin sosta va magari a bilanciarla ulteriormente la cosa che è interessante sempre su 6 anche ieri abbiamo visto andare sopra il dollar in maniera aggressiva vediamo se avremo continuazione volumetrica sicuramente la zona di un dollaro è una zona importante anche a livello psicologico per questo nome quindi sicuramente sarebbero più volumi di questi che abbiamo registrato soprattutto nel weekend sicuramente e un altro nome che già avevano parlato qui più interessante ancora probabilmente a livello di price action se dovesse rompere questo pattern è manta perché manta vedete ancora da dare ancora da recuperare un nome fresco un nome giovane mettiamola così anche lui non sono consigli ragazzi adesso è che andate comprate manta a caso quindi non sono consigli dei finanziari ma è giusto per farvi capire che ne avevamo già parlato anche le nostre strategies di questo pattern di come potenzialmente può essere interessante se io vi do i nomi dopo che hanno fatto più 50 sul daily vi dico un nome da dio comprate cioè questa roba qua a mio parere fa solo che danni sto andando lunghissimo giusto per dirvi appunto occhi aperti sempre ragionate con la vostra testa e non con la fomo mi raccomando detto questo ragazzi mi fermo abbiamo finito per oggi anche se in realtà domani mattina non potrò essere con voi con l'update ma non vi preoccupate perché ho già preparato per voi un update spaziale e per chi mi segue su instagram forse ha già capito di cosa stiamo parlando sarò appunto a un evento quindi non ci sarò domani mattina e quindi va così ma ci sarà questo 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 morning particolare un morning appunto uno speciale chiamolo così 25.000 iscritti di cui vi ringrazio estremamente per il supporto detto ciò ragazzi mi fermo fatemi sapere anche voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti e noi ci vediamo prestissimo con un prossimo video ciao a tutti ragazzi